Silvana Comaroli, torniamo alla legge di stabilità perché nel maxi emendamento del governo Letta c'è l'introduzione del reddito minimo. La Liga Nord che cosa ne pensa? No, assolutamente contrario perché non vorrei che questa forma di reddito minimo diventasse una scusa per creare altri lavoratori socialmente utili, come li chiamo io. E queste persone che poi ricevono questo reddito chi glielo fa fare ad andare a cercare un lavoro e quindi essere produttivi per il nostro paese? Nessuno, fatto sta che anche con i lavoratori socialmente utili che stiamo vedendo al sudo cosa succede, loro percepiscono questo reddito e poi lavorano in nero. Noi siamo totalmente contrari, loro l'hanno fatto per dare un contentino al 5 Stelle, per tenerli li buoni, infatti in commissione non hanno fatto nessuna opposizione e probabilmente questa qua è stata la contropartita. Noi siamo invece per i lavoratori, per quelli che si danno da fare dalla mattina alla sera e noi infatti vogliamo tutelare questi. Questi soldi, anziché dare per il reddito minimo, dovevano essere utilizzati per abbassare le tasse di tutti quelli che lavorano. Il governo si è anche giustificato dicendo che questo reddito minimo sarà finanziato con il taglio delle pensioni d'oro. Ma ha ben ragione, è giusta la copertura, ma questi soldi, ripeto, devono andare a diminuire le tasse dei lavoratori. Doveva essere aumentata la riduzione del cuneo fiscale perché solo chi lavora merita di pagare il meno tasse possibile.